Ciao a tutti, sono Permixtanex Volevo un pochino parlarvi della serata che abbiamo passato insieme Io e voi, ovvero alcuni di voi Per dirvi insomma quanto fossi felice di questa serata Quanto fosse stata carina, importante per me Perché poi ci sarà un video a proposito della recensione, tutto sul film Però insomma lì non mi posso dilungare particolarmente su questa serata Il 27 marzo io e alcuni di voi siamo stati all'anteprima di A Quiet Place Un posto tranquillo, è un film horror Sono stata super felice di conoscere alcune persone di voi Siamo rimasti lì a chiacchierare subito dopo Inizialmente volevo fare tipo un vlog della serata C'è solo l'introduzione iniziale e poi non ho registrato più niente Perché mi sono dimenticata, ci siamo messi a parlare Mi piaceva un sacco parlare con voi Era così divertente e quindi alla fine non ho più registrato il vlog Perché non ci ho pensato, ecco Non so se capi anche a voi Ve ne parlerò meglio nella recensione Però se non avete visto il film, insomma ve lo riassumo in brevissimo Senza farvi spoiler, state tranquilli Non lasciatevi ingannare dal titolo perché è un horror In genere noi amanti degli horror ci lamentiamo sempre di alcune cose Ovvero sempre la stessa cosa, sempre lo stesso film, niente di nuovo, bla 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 Questo film invece è davvero qualcosa di nuovo In genere gli horror si sono sempre basati sulla mostrare Quindi c'era un periodo in cui mostravano delle cose Poi c'era stato il boom del mostrare il più possibile Quindi gore, splatter Ma c'è stato anche un altro momento dell'horror In cui si è pensato di non mostrare per niente E l'horror si è sempre molto basato sulle immagini La cosa che mi ha colpito di questo film è che si concentra su un'altra cosa Senza abbandonare le immagini, eh tranquilli Ma si concentra sull'audio E questa cosa è molto interessante secondo me Perché oltre l'horror L'audio può essere un elemento che può ancora fornire qualche novità al cinema Da indagare e vedere tutti i suoi aspetti e tutti i suoi meccanismi E questa è secondo me una cosa molto interessante Sono stata super felice che sia piaciuto un sacco a voi che siete venuti lì Perché a me era piaciuto Ne avevo sentito parlare benissimo dalla critica statunitense Quindi speravo piacesse anche a voi Però il fatto che vi sia piaciuto effettivamente tanto Vi abbia anche spaventati Cosa che non sempre gli horror riescono a fare Quindi all'uscita sono stata davvero felice nel sentire i vostri commenti E il fatto che vi sia davvero effettivamente piaciuto Sono stata davvero felice Inoltre vi volevo anche ringraziare per un'altra cosa Mi ha fatto un sacco piacere poter condividere con voi Che mi seguite da diverso tempo Tipo Federica o Chiara Ma anche Ludovico, Arianna, Laura Ora se non sbaglio il nome è Laura e Andrea Sono dimenticato qualche nome Abbiate pietà, scusatemi Sono stata davvero felice di condividere con voi Che è una cosa per me molto importante Martedì io ho fatto la mia primissima introduzione ad un film Infatti ero timidissima A livelli davvero indescrivibili a parole Però per me è stata una cosa molto importante E sono davvero felice di averla condivisa con voi Quindi grazie mille per essere venuti Sono stata super felice di conoscervi Ma davvero, non semplicemente ciao ciao Con molti di voi siamo rimasti ore a parlare E mi è piaciuto un sacco È stato davvero bello conoscervi di persona Conoscere le persone che siate Grazie mille, spero ci sarà un'altra occasione simile Il film uscirà il 5 aprile E tranquilli, arriverà la mia recensione Il trailer fa paura Ma anche il film fa paura Quindi tranquilli Grazie mille ancora per aver visto tutto questo video Grazie mille ancora per seguirmi E per quanto siete carini con me Spero vi piaccia il film Almeno tanto quanto è piaciuto a me E noi ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao Ciao